Ancora più veloce e preciso sa essere però alla mezz'ora signori, trasformando con freddezza in gol l'assist che l'ottimo diria gli offre applicando alla perfezione la regola del vantaggio per un fallo su Baiano. Un gran gol che sarebbe decisivo se Scala non si ricordasse di avere in panchina un certo mezzo.